Allora, qui non si collega, si gioca di qua, la figura, e adesso ci sono due possibilità, o a tari di qua, o a tari di qua, e io vi ho detto, si dà la tari nella stessa direzione, tutte le altre, proseguendo in modo giusto. Perché? Allora, sarebbe tutto significo, però c'è questa, mi rompe la simpatia, per cui dipende da questa. Allora, se giochiamo in questo modo, sappiamo già dapprima cosa succede, dicendo che non ero collega, non gioco qui, poi, qui non prenderanno a parte due sonde, come abbiamo visto. Se gioco, nell'altro modo, e quindi torno indietro da tari di qui, puoi dire, non connetterà, però gli si dà questa visione, che è, dare questo a jarmi, bianco cattura, però nero connetterà, e bianco il pinzato. È vero che volendo può iniziare questo, però bisogna il fatto che il pinzato è diventamente con il mio pinzato. un po' di scopo. Poi, un po' di scopo. Si. Ho già fatto il pinzato. Eh, questo non se la fa curare. Continua a salire. Sì, però a questa devi rispondere. In qualche modo Nero comunque sia un problema che possa dire a seconda di cosa c'è qua può contrattaccare, può toglierti la base o brigarti... Ci sono tante possibilità. Sei un po' separato perché hai lasciato dietro questo. Questa volta, a differenza di prima, devi difendere. Mentre prima glielo potevi lasciare perché... Rifacciamo la ricamata. ... ... Allora, se me la gioca subito, cosa succede? ... 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